In questo video vedremo uno sguardo generale a quello che è il pannello di controllo di un amministratore delle Google Apps for Education. In questo caso, dopo aver effettuato il login in una qualunque pagina di Google che prevede nome, utente e password, l'amministratore si trova dinnanzi a un pannello di questo tipo. Utenti, profilo aziendale, fatturazioni, applicazioni e molto altro. Allora, cominciamo a vedere. Cliccando su utenti, nella parte sinistra vengono mostrate tutte quelle che sono le organizzazioni che si possono creare. Nel nostro caso, la nostra scuola ha creato amministratori, docenti, sedi, segreteria e altri. Cliccando ovviamente all'interno di ognuna, compaiono gli utenti relativi a quella. Quindi docenti, e come vedrete poi c'è un elenco di insegnanti, sedi, perché abbiamo creato tre utenti virtuali che non sono persone fisiche, sono account, sede, biennio, istituto tecnico commerciale, triennio, segreteria, studenti e altro. Da questo pannello è possibile, cliccando su un'utenza, intervenire sull'utenza stessa. Vedere per esempio lo spazio di archiviazione, l'account, le app che quella utenza ha creato e molto altro. Questo per quanto riguarda il pannello utenti. Cliccando sulla sinistra si può tornare in home, è stato tradotto in italiano come casa. Vediamo, profilo aziendale non serve molto, in quanto il nome, profilo aziendale, è il medesimo delle Google Apps for Works, cioè vale a dire le Google Apps vendute a terzi. Ricordo che le Google Apps per le scuole sono gratuite. Qui si può intervenire sul profilo aziendale, che nel nostro caso è un profilo scolastico, e quindi il nome, la categoria ed altre caratteristiche. Oppure si può intervenire per esempio nelle comunicazioni all'interno degli utenti o nelle comunicazioni che arrivano direttamente da Google. Si può personalizzare eventuali link per rendere più semplice la memorizzazione. Per esempio in Gmail le Google Apps propongono una sintassi tradizionale, http mail google.com slash a slash il nome che si è scelto, ma se si è in possesso di domini acquistati si può evidentemente scegliere anche un qualcosa di diverso e più facilmente memorizzabile. Questo è il profilo aziendale. Poi andiamo alla fatturazione. Anche in questo caso è un menu relativamente poco utile per le Google Apps for Education in quanto, come si vede qui, l'abbonamento è gratuito. Poi veniamo alle applicazioni. Questo invece è uno dei menu più importanti. Nel pannello applicazioni vediamo che ci sono le Google Apps propriamente dette, servizi aggiuntivi e altri. Quello che si adopererà senz'altro di più sono le Google Apps. Cliccando qui vediamo che si entra nel pannello di controllo delle applicazioni più usate. Calendario, Classroom, che ricordo è l'unica applicazione che non è presente in un normale account Gmail, contatti, dispositivi mobili e via dicendo. Entrando in ciascuna si possono stabilire una serie di regole. Io sono entrato adesso in calendario. Qui ho la specifica che l'applicazione è attiva per tutti. Come amministratore avrei potuto anche attivarla solo per i docenti, solo per la segreteria, solo per gli studenti. Qui si vede anche la percentuale di utenti che adoperano questo tipo di servizio. Nelle impostazioni generali, ecco, si possono specificare molti aspetti che di norma l'utente Gmail non va a modificare o che non può modificare. Per esempio l'indirizzo web del calendario, oppure le opzioni di condivisione tra tutti gli utenti del dominio, dove per dominio si intende il nome che si sceglie, nel nostro caso liceosansepolcro.eu, la condivisione interna fra vari calendari ed altri aspetti più tecnici. Allo stesso tempo abbiamo risorse, le risorse sono delle applicazioni, estensioni in più per l'applicazione calendario che servono per specifici compiti. In questo caso qui suggerisce puoi creare risorse che gli utenti possono prenotare nel calendario. Questo per un'interfaccia veramente avanzata tra scuola, prenotazione sedi, aule e altro. Questo ovviamente è nell'ipotesi che tutta la scuola sia coperta dalle Google Apps, quindi studenti, docenti, ma anche segreteria e eventualmente anche persona aleata. Google Apps. Poi andiamo a Gmail. In questo pannello si possono specificare moltissime regole. Per esempio si può specificare che gli studenti con il loro account possano scrivere solo fra loro. Vale a dire le loro mail non possono uscire al di fuori del recinto del dominio. Quindi se per esempio il mio dominio è liceoclassicodiroma.it, ogni studente avrà un account del tipo mario.rossi o rossi.mario.chiocciola.liceoclassicodiroma.it e posso stabilire che quel tipo di mail possa essere scambiata solo all'interno del dominio, quindi non si possa scrivere a un utente che non sia della scuola. Questa regola può essere stesa agli studenti come può essere revocata. Cliccando in tutte queste funzioni si entra proprio nel dettaglio, negli ingranaggi interni di Gmail. Le cose più importanti sono le impostazioni utente, dove si può stabilire se a seconda dell'organizzazione, ecco, a seconda dell'organizzazione chi può fare cosa. Posso stabilire per esempio che i docenti non abbiano il limite del destinatario, possono scegliere il tema magari, però per quanto riguarda gli studenti posso inserire delle limitazioni oppure viceversa. Posso consentire che l'utenza personalizzi le impostazioni oppure no, posso disabilitare i protocolli POP e IMAP e viceversa, e tutta un'altra serie di impostazioni più tecniche. questo menu delle Google Apps è in assoluto il più frequente da modificare in una prima fase. Difficilmente poi una volta effettuato il setup lo si va a modificare. I servizi Google aggiuntivi sono invece tutta un'altra serie di servizi molto utili, che però probabilmente non sono tra i principali. e quindi possiamo stabilire se i ragazzi possano non aprire un blog con Blogger, possiamo stabilire se possono installare estensioni per Chrome, possiamo stabilire se avere una cronologia delle posizioni, questa è l'ipotesi che i ragazzi attivino il servizio anche su dispositivo mobile. E poi Google Analytics, che consente naturalmente un'analisi molto tecnica di quelle che sono gli usi dei vari utenti, e Google Photo, per esempio, tra tutti riterrei che i più utili sono gli ultimi due, Google Plus e YouTube. Come vedete nel nostro caso alcuni servizi non sono attivi, per esempio Chrome Web Store è attivo per tutti, YouTube è attivo per alcune organizzazioni, organizzazioni docenti per esempio, che possono caricare i propri video didattici, non per altre organizzazioni. A breve noi attiveremo anche Google Plus, questo è un social network di Google, perché è molto utile per fare content creation, vale a dire per che un docente possa nel suo account Google Plus mette a disposizione dei siti web, naturalmente esterni alla Google Apps for Education, che i ragazzi possono consultare. È una funzione estremamente utile per fornire ai ragazzi tutta una sitografia che ormai i docenti tendono ad adoperare molto di frequente. Applicazioni del Marketplace sono tutte quelle applicazioni che si possono poi eventualmente installare nel proprio Chrome, nel proprio browser, alcune delle quali sono veramente molto importanti, penso a quelle per le lingue straniere. In questo caso non abbiamo ancora attivato applicazioni di Marketplace, quindi è scritto zero. Oltre al menu applicazioni, anche questo, gestione dispositivi, è estremamente utile. Ogni qualvolta un utente registra il proprio account nel proprio dispositivo, si può e si deve attivarlo mediante una procedura qui presente. Questa è una misura di cautela e di protezione in più. Registrare un dispositivo mobile significa avere la possibilità eventualmente di cancellare dati da remoto nell'ipotesi che questo dispositivo venga perso. In ambito aziendale questa è una funzione fondamentale e può essere utile anche in ambito scolastico se pensiamo ai dati sensibili dei vari utenti. Le regole si possono stabilire da qui, dispositivi mobili. Si può scegliere se far attivare dispositivi senza alcun tipo di permesso oppure se concedere il permesso in un passaggio o in due passaggi. Questo sia per dispositivi Android che per iOS che per Windows Phone. Per dispositivi Android la procedura è piuttosto semplice, per dispositivi iOS bisogna procurarsi da Apple un certificato di autenticità attraverso una procedura abbastanza semplice. Questa è una pagina che un amministratore se vuole che docenti e studenti utilizzino i dispositivi mobili dovrà utilizzare molto spesso, quantomeno per attivare i dispositivi. Se non vengono attivati in un telefono, in uno smartphone o in un tablet l'account creato non può scaricare mail, non può avere notifiche di alcun tipo. Una volta abilitato queste notifiche diventano attive. Sicurezza. Anche questo è uno degli aspetti in assoluto più importanti. Nella sicurezza, come dice la parola, si modificano tutta una serie di dati. Il più banale è la password. Si può scegliere che la password sia di soli otto caratteri, più o meno alfanumerica, più o meno complessa. Si possono stabilire le regole per il recupero della password e di recente lo si può anche automatizzare, di modo tale che un eventuale amministratore non stia continuamente a rigenerare password per chi ne smarrisca. Si può attivare la verifica in due passaggi, monitorare le password per eventuali cambiamenti costanti, piuttosto sconsigliato, e si possono anche attivare le API per API, insomma in termini tecnici, per gestire un'altra serie di servizi particolarmente più tecnici che a meno di interessi molto particolari non necessariamente dovranno essere attivati o modificati. Questo è l'ambito per quanto riguarda della sicurezza. Poi proseguendo abbiamo visto assistenza. Assistenza è veramente utile, oltre che essere estremamente efficiente. Qui quando si ha un problema Google richiama nel giro di qualche istante o fornisce comunque assistenza via mail anche in italiano. L'assistenza può essere richiesta via mail, a voce, ed è un servizio di estrema efficienza. Non è capitato solo una volta di doverla contattare. Nell'atto in cui ho inviato la richiesta, dopo pochi istanti è arrivata la telefonata di un centralinista estremamente esperto che ci ha risolto il problema in pochi passaggi. Migrazioni. Questo è un ambito forse relativamente poco utile nella scuola. Serve naturalmente se si cambia organizzazione, se si proviene da una realtà e si voglia migrare tutta la propria patrimonio di email, contatti, calendario in un altro dominio. normalmente questo agli utenti di scuola dovrebbe non accadere più, più probabile che accada in ambito aziendale, perché ripeto il pannello di controllo è il medesimo. Gruppi. Questo è un aspetto fondamentale se vogliamo dare ordine alla nostra popolazione scolastica. Quando si va a progettare l'architettura delle Google Apps bisogna essere molto attenti in fase iniziale. Vale a dire, sarebbe opportuno, come abbiamo cercato di fare noi, di creare, ora qui lo vediamo meglio, delle organizzazioni, una volta create le quali è più facile inserire all'interno gli utenti. Se non vengono create delle organizzazioni, tutte le regole che ha uno certo tipo di utenza sono uguali per tutti e questo potrebbe non essere opportuno. Le organizzazioni poi possono provvedere al loro gruppo, al loro interno, anche dei gruppi. I gruppi sono qualcosa di più piccolo, hanno regole uguali e sono molti utili per esempio per creare le classi. Noi abbiamo scelto come tipo di criterio quello della data di nascita. Come vedete, questo è un gruppo AS, il che vuol dire sezione A, scientifico, anno di nascita 1996, ragazzi, della quinta dell'anno 2014-15. L'anno di nascita è naturalmente più comodo dell'anno in corso per ovvi motivi, perché non cambia nel tempo, meno facilmente memorizzabile a colpo d'occhio. Per esempio, L1 1998 per noi è il linguistico, prima sezione del linguistico, anno di nascita 1998, quindi un attuale quarto-quinto anno. Questi sono i gruppi, i gruppi classe. I gruppi classe hanno, una volta creati degli utenti al loro interno, che sono di norma gli studenti, hanno questo indirizzo mail, cioè quello che deriva dal criterio che si è scelto, ma si può stabilire anche un alias. Per esempio, è piuttosto scomodo ricordarsi AS underscore 1997, potrei dare l'alias della quinta A, chiocciola di ciostanza sepolcro.e, in questo caso è molto più facilmente memorizzabile. Utilissima la sezione gruppi se vogliamo, per esempio, creare dei gruppi anche fra i docenti, penso ai dipartimenti, dipartimento lettere, dipartimento matematica, oppure dipartimenti trasversali, come commissione viaggi o altre. In questo caso la segreteria, inviando una mail a questo gruppo, naturalmente sa che quella mail viene recapitata a tutti gli appartenenti al gruppo. Domini, questo per domini si intende dei link, dei siti, questo è modificabile nell'ipotesi in cui si possegga l'acquisto di un dominio di primo, secondo, terzo livello. Ad esempio, se si sceglie come nome liceomanzoni.it, tramite la sezione domini si può creare all'interno delle sottosezioni, per esempio www.chiocciola.liceomanzoni.it oppure www.segreteria.liceomanzoni.it. dei sottodomini. Qui Google ci chiede, eventualmente, se dover reindirizzare in una procedura totalmente automatica gli utenti che si dirigono in un determinato dominio verso un altro. Per esempio, noi abbiamo scelto come nome per le Google Apps liceosansepolcro.eu, tuttavia il nostro sito è liceosansepolcro.it. Qui possiamo, per esempio, stabilire la regola che chiunque si diriga al sito liceosansepolcro.eu, venga automaticamente reindirizzato in liceosansepolcro.it. Ruoli di amministratore. Anche questo è molto molto importante. Qui si stabilisce chi sia l'amministratore, chi sia il super amministratore, vale a dire quello che ha dominio su tutto, chi sia un amministratore dei gruppi, chi sia un amministratore per tutte le sezioni delle Google Apps. In una scuola particolarmente grande è piuttosto pesante coprire tutti gli ambiti, è più facile dare dei ruoli. Per esempio, l'amministratore dei gruppi si occupa solo di quell'aspetto, l'amministratore delle utenze si occupa solo di altri aspetti. Non servono competenze particolari, oltretutto l'amministratore dei gruppi ha un pannello di controllo meno complesso di questo perché si occupa solo di una parte. È un modo per non sovraccaricare il super admin, cioè il super amministratore, vale a dire l'amministratore che sta sopra a tutti gli altri. Si possono poi creare amministratori per specifici servizi. A meno di una popolazione studentesca veramente molto numerosa, è piuttosto agevole per una popolazione di circa un migliaio di studenti anche solo avere due o tre amministratori. Infine abbiamo applicazioni di App Engine. Queste applicazioni compaiono qui solo nel caso in cui le si installino. Sono applicazioni terze che possono aggiungere servizi all'ecosistema Google Apps. Quindi, tornando in home, vediamo che il pannello è sostanzialmente fatto di icone. Nella parte destra abbiamo visto che c'è anche un minimo report di quelle che sono le statistiche. Interessante a proposito delle statistiche anche vedere i rapporti. Questa è una funzione molto tecnica ma anche piuttosto utile per vedere com'è l'andamento dell'uso. Per esempio si può vedere se c'è un uso eccessivo di un servizio piuttosto che un altro. Qui si può fare una ricerca di praticamente tutto ciò che hanno fatto gli utenti dal giorno in cui hanno attivato l'account. Si possono per esempio avere rapporti aggregati e sono quelli che si adoperano di più perché naturalmente sono quelli a colpo d'occhio più semplici. Però per esempio possiamo anche vedere se determinate utenze hanno avuto difficoltà nella modifica della password. E quindi avere una reportistica aggregata che alla fine ci dica com'è il funzionamento dell'architettura. Questo è uno degli aspetti in assoluto più utili. Per esempio si può vedere Drive. L'uso che viene fatto di Google Drive con tutti i file che di istante per istante vengono modificati, aperti, chiusi, spediti, cancellati. Qui naturalmente si può porre un problema di privacy. Questo perché l'amministratore qui vede i movimenti anche nel senso tecnico del termine. Naturalmente tutto questo deve essere comunicato per trasparenza e correttezza alle famiglie ma è uno strumento troppo importante per non essere utilizzato. Soprattutto come vedete qui nella voce sicurezza si possono rispetto ai nomi degli utenti vedere tutta una serie di attività anche legate alle applicazioni terze che possono installare nel proprio account. Si può ricercare nel log e mail anche eventuali comunicazioni. Vedete mittente, IP del mittente. Questa è un'ipotesi che a scuola i ragazzi abbiano una connessione. In quel caso diventa naturalmente utile l'IP. In ogni caso tramite questa funzione noi possiamo vedere anche l'IP che i ragazzi hanno a casa quando si collegano con l'account Google Apps da postazioni diverse a quelle scolastiche. Questo dunque il pannello di controllo. C'è qualche sbavatura nelle nelle traduzioni. In alcuni casi sarebbe forse stato opportuno mantenerle in inglese anche perché chi mastica un minimo di competenze di questo tipo in genere è più avvezza a usare un lessico inglese e per esempio qui ritorna la simpatica traduzione casa per per home. Direi che è particolarmente funzionale. Ecco, di tutto questo pannello che può sembrare complesso all'inizio finiremo per usare soprattutto utenti, gruppi e applicazioni. Gestione di dispositivi solo al bisogno. Nella parte destra, ultima cosa, è possibile avere il link diretto anche all'applicazione che c'è da poche settimane. È un'applicazione che si installa naturalmente su smartphone e dà una immagine piuttosto semplificata di questo pannello di amministratore. Non riesce a raggiungere questa complessità però come colpo d'occhio è piuttosto funzionale. Questo dunque è il pannello di controllo. In altri video vedremo invece per esempio la creazione di utenti, di gruppi e eventualmente la gestione dei dispositivi.